Perché avete misurato l'attention nel mondo del calcio? Il tema dell'attention è un topic molto caldo presso i marketer, presso le aziende e i brand essenzialmente perché è un nuovo segnale in un mondo estremamente affollato di messaggi pubblicitari. Se fate una stima che ogni giorno abbiamo circa 33.000 potenziali esposizioni a messaggi pubblicitari capite che catturare l'attenzione del nostro consumatore diventa cruciale. Diciamo abbiamo scelto di lavorare in partnership con la Lega Calcio di Serie A perché essenzialmente il calcio è un linguaggio universale perché 34 milioni di persone di italiani e maggiorenni seguono il calcio vuol dire il 69% della popolazione italiana, quindi è un elemento importantissimo. I risultati chiavi della nostra ricerca sono che il calcio è un contenuto altamente attentivo e questo elemento porta con sé un'efficacia straordinaria anche della comunicazione che è inserita nei contesti di calcio. Stiamo parlando di adivire call, quindi ricordo pubblicitario spontaneo, ma analisi più approfondite ci hanno permesso di individuare una correlazione stretta tra investimento nel mondo calcio e crescita sui KPI di brand come Consideration e Intention to Buy. Spendendo Spendendo Spendendo